E' un'operatore sanitario. Ho una pistola. Nice. Si pronuncia niss. Mi riferivo al culo, non alla stanza. Questo è un bel problema. Apri il caccello. E contro le regole. Senza quelli che infrangano le regole, tu dove saresti? L'orario delle visite è finito. Serata piena all'Atemis. Ehi, toglieresti le scarpe dal divano, per favore. E tu perché non te ne vai a fanculo?